Io non torno più a casa, io non torno più a casa, non ci torno più a casa, perché, perché, perché ci sono le formiche che escono dai vasi, che escono dai muri e si mangia tutto quanto, si mangia le lenticchie, si mangia le minestre, si mangia i nippocorni e si fanno le ciambelle. Se io pulisco tutto, mi mordo i piedi e devo stare attento che si mangia tutto quanto, io non torno più a casa, non ci torno più a casa, io non torno più a casa, perché, perché. Ora sono 500.000, si sta moltiplicando, mi han detto di uscire, di comprarmi da mangiare, mi han dato anche la lista, vogliono i biscotti, il miele e il cioccolato, io un anno è una slanduria, E se non torno presto, si mangia nel mio letto, e se non torno ancora, distruggono ogni cosa, distruggono ogni cosa, io non torno più a casa, non ci torno più a casa. Allora ho fatto la spesa e poi mi sono comprato un vestito da formica e me lo sono messo e sono entrato in casa, non mi ha riconosciuto, pensavano che fossi anche una formichina. E sai cosa mi han detto, quando torna Francesco, l'ho mangiato, l'ho mangiato, l'ho mangiato, tutto un pizzottino, ma poi mi han guardato e mi ha riconosciuto, allora sono scappato, scappato ogni e per sempre, non posso più tornare, la vita è un'altra cosa, che qui non può cadere, si può solo uccidere, montare, scappare. Io non torno più a casa, non ci torno più a casa, non ci torno più a casa, non ci torno più a casa. Grazie a tutti.